ragazzi guardate qua che bello questa è una delle cose che adoro di più la cosa più semplice del mondo penso di avervela fatta vedere già tantissime volte se non avete mai provato provate è fantastica c'è le fette biscottate integrali con lo yogurt greco che dopo mi finirò tutto il vasetto in cui ho aggiunto un po di truvia per dolcificare e sopra ci ho messo un po di mammellata fior di frutta questa l'adoro ciliegie ma anche fragole è buonissima ve la straconsiglio 100% frutta senza zuccheri aggiunti queste piccole cose fanno sì che voi possiate mangiare mangiare bene sano light senza ingrassare e tenendomi in forma cioè scegliendo una mammellata senza zuccheri aggiunti uno yogurt magro e poi aggiungendoci il dolcificante zero calorie poi bevo una tisana al tè verde che come sapete aiuta ad accelerare il metabolismo a stare in forma il tè verde è ricco di benefici anche per drenare il corpo e scegliere delle fette biscottate integrali bio ma soprattutto integrali perché ovviamente hanno indice glicemico più basso e sono molto molto più sane quindi vi straconsiglio questa idea per colazione o merenda come ultimo tocco ragazze mandorle a scaglie pioggia di mandorle a scaglie che anche le mandorle la frutta secca fanno bene perché sono grassi buoni che aiutano a stare in forma e fanno tanto bene anche la pelle e capelli buon qua ragazzi ho preparato un pesto fitta vi farò la ricetta sul mio secondo canale è troppo buono questi sono scaglie di mandorle pomodorini olio a crudo ed è buonissimo perdonate i piatti di carta ma sono tu che fai ce la faccio non ce la posso fare a lavare i piatti quindi perdonatemi sono curiosa di sapere cosa ne pensi di questo pesto fittini di formaggio guardate sono molto imbitanti sono cremosi questo anche un po di pomodorino ci voleva qualche altra voglia di basilico ma è no così e per decorare fate come ben evitanti vai assaggia sei tutti noi amore sono buone una buonissima dell'assaggiatore ok adesso li puoi buttare come se li butto che ti manchi buone sono verdi sono buone buonissima mi farò il video sul mio secondo canale si 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 abbiamo capito che è buono non c'è bisogno che lecchi il piatto è buono è stato buonissimo è vero è buono sono caduti io sto ancora finito di mangiare guarda qua tu già è finito perché lei è lenta o sei tu che sei una mucca muuuu amore fai muuuu e fallo muuu una volta una tasola una muuu per secondo ho fatto le luci le luci per secondo le luci no spezzatino di tacchino con luci lo faccio sempre così piace tantissimo guardate le luci di natale da sapore veramente veramente loro di natale sono da natale quelle luci finalmente le abbiamo consumate e poi finocchi con limone e paprika affumicata come al solito of course buon appetito buon appetito e sono qua in negozio a carita shop e farò una merenda shue shue veloce cioè mangerò fisa di tacchino con mandorle prima dell'allenamento pre-workout un 10 grammi quindi 10 mandorle e un 150 grammi pesa di tacchino che tristezza però purtroppo quando vai di corsa per forza per cena preparato letto di salmone con spezie varie finocchietti, sesamo, semi di papavero e poi ho fatto il riso di gusto questo ci ho messo solo sale e pipe e qua ci ho messo lo zafferano non mi veniva la parola e poi le zucchine che semplicemente le ho fatte in padella e ci ho messo un po' di curry comunque buonissimo poi ci metto sopra se voglio un po' di tabasco e salsa di soia e viene buonissimo come il ristorante sinistra? ristorante da Carlita ah poi c'ho anche questi sono di cetriolinta e raffette con limone sale e pepe buonissime pieno di di tutto proteine, caldo e lati, verdure buon appetito ho fatto gelato e spacciatella va bene? ah ah sicuramente ho messo un po' di yogurt greco e un po' di quark le ho meschiate poi ho aggiunto la trubia e un po' di latte di cocco e poi ci ho messo dentro gocce di cioccolato, marina di cocco, mandorline a scaglie ci ho messo il cioccolato tracciatella così vedi la nostra gelateria la nostra gelateria, la Dario è capito tracciatella number one c'è stata la bocca sporca ti è piaciuto? buonissimo stiamo vedendo i film di Siane, benvenuti al nord vedendo i film di Siane, benvenuti al nord buonanotte e Grazie a tutti.